Revisioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Revisioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio sulle coste schiarite alternate a nubi sparse, in montagna, bel tempo, con cieli sereni.